Prima dello scontro diretto del Fadini della prossima settimana, Città di Termo e Giulianova si affronteranno ancora una volta a distanza. Il Diavolo riceverà domani pomeriggio al Bonolis il Casalbordino, con la sfida nella sfida tra De Gidio e Finizio, entrambi a quota 16 gol in campionato, in testa alla classifica a marcatori. Il tecnico Marco Pomante non sarà in panchina perché dovrà scontare la squalifica ricevuta dopo la finale di Coppa Italia. Affrontiamo una squadra che ha 31 punti in classifica, di questi 31 punti 21 li ha fatti fuori casa. Ha vinto sei partite, ha pareggiato tre partite fuori casa, ne ha perse solo due. È una squadra, diciamo, la classica squadra da fuori casa, che sa difendere bene con il blocco di tutta la squadra a basso e poi ripartire con giocatori davanti molto forti, molto forti palla al piede, molto veloci come Finizio, che è il capocannoniero insieme a Stefano del Girone, e Budano, che è un 2004 molto importante in questa categoria. Cipolletti salterà la partita per squalifica, Ciccio Esposito non sta bene, Palmentieri sicuramente non sarà convocato perché ha una piccola contrattura, una piccola allungazione, quindi non è niente di grave, però sicuramente per domani non recupero. È poi da valutare un po' di giocatori che sono un po' acceccati della partita di Giulianova, però dal punto di vista della formazione sicuramente andrà in campo un teramo con la cattiveria giusta, con la concentrazione giusta, perché sappiamo l'importanza di questa partita. Adesso i punti iniziano a valere doppio, le partite sono sempre di meno, quindi dobbiamo sbagliare il meno possibile, quindi sappiamo che dietro abbiamo Giulianova che non mollerà sicuramente, quindi domani dobbiamo, al di là di chi scende in campo, della condizione fisica, il nostro obiettivo è portare a casa tre punti. Un pochino andrà la Vespa che alla fine è come me, la pensa come me, io del mio staff mi fido ciecamente. È la prima volta che mi vedo la partita, non tanto dalla tribuna, ma dai distinti, mi metteranno i distinti, quindi da quel punto di vista però sono sereno, i ragazzi sono più tranquilli. Il Giulianova a sei punti di distanza dopo l'ultima giornata sarà vasto per un non facile impegno in casa di una squadra che sembra aver ritrovato fiducia nelle ultime due giornate. Abbiamo avuto una settimana buona di lavoro, una settimana piena, abbiamo cambiato qualcosina anche sull'approccio fisico, per cui sarà una partita molto difficile, su un campo difficile, una squadra che è in salute, per cui dobbiamo fare le cose con la testa e con le gambe. Sicuramente chi scenderà in campo saranno quelli che saranno meglio, perché adesso non ci possiamo permettere di fare regali.